Come è andato il Mugello MotoGP? Bene per Lorenzo, ok anche per Pedrosa, male per Marquez che è caduto anche se stava andando fortissimo, Ducati sempre uguali più o meno, male malissimo per Valentino Rossi, atteso più di tutti e più di tutto almeno in Italia, è così atteso che da un lato si cercano appigli per una qualifica non certo impeccabile e dall'altro siti come quello di Eurosport si inventano una prima fila, la voglia è forte di un Rossi che torni al top, invece niente perché la sua gara purtroppo finisce con un incidente dopo due curve, responsabile Bautista o non responsabile, i due vanno per terra e Rossi fa 1-0, altro che quarto di 4, Valentino in classifica è sesto dietro a Dovizioso e molto dietro a Cratchlow e questo deve dargli molto fastidio, Rossi arriva da un dodicesimo posto alle mani, non vince una gara da Malesia 2010 e ha fatto peggio dell'anno scorso in Ducati, è allarme o no? Secondo me siamo oltre l'allarme, altro non c'è da aggiungere e anche perché non si può incolpare una moto che oggi ha vinto, non si può neanche però pretendere che un pilota vinca sempre, questo pilota ha un problema di competitività ma in media non interessa, l'attenzione è tutta su di lui, tutti puntano su Rossi e non è previsto nient'altro che un successo o perlomeno un podio e se non capita come al solito si cercano delle colpe, tutto come al solito, il casco special edition, i proclami, i tifosi di alta qualità che poi si comporteranno come al solito sotto al podio negli ultimi anni fischiando Lorenzo, i media, la tv, Mediaset, fa finta di niente e sai abbiamo i doppi vetri, vogliamo immaginare che tutti quelli lì vestiti di giallo che non sono certo lì per Lorenzo stiano applaudendo, immaginate male perché da qualche anno a questa parte sotto il podio si fischia e i tamarri fischiano e insultano, questa gentaglia qui è frutto dell'approccio media che ha creato Ultras invece di appassionati, vediamola questa analisi tv, Marquez cade, succede, cade nel weekend, cade in gara e siccome non lo possono attaccare per i risultati perché questo con momenti da ruchi vince il mondiale, lo psicoanalizzano bollandolo come fuori di testa, anche un po' senza orgoglio, senza coraggio, troppo orgoglio è diciamo così, troppo irruento, cade troppo, a parte che Temporale non conosce le curve del Mugello quindi non le distingue e glielo dicono più di una volta ma non vuole comprenderlo questo da una gara all'altra si trasforma da supereroe in psicolabile in 5 minuti, Dovizioso gira più forte di Valentino nelle prove, gli è davanti in classifica con Vale che ha la moto ufficiale e lui la moto di merda, Cereghini ha definita così, ma non basta, alla fine Tengo famiglia ci tiene a dire che, proprio all'ultimo, proprio per salvare un po' la faccia che ci ha messo più di Rossi l'anno scorso a finire la gara, peccato che tutti ci abbiano messo di più quindi vuol dire che la pista è più lenta, è l'ultimo zuccherino che serve a lui per giustificare il gettone di presenza da avvocato d'ufficio di Rossi e ai tifosi per andare a casa un po' meno incazzati e aggiungere questa ai nuovi mondiali che è ormai una delle scuse che viene utilizzata e che funziona sempre meno, purtroppo i tifosi Ducati sono fedelissimi al motociclismo, i tifosi di Vale sono fedelissimi del pilota, queste non sono parole mie ma del telecronista, sono in realtà cose molto giuste, peccato che eticamente siano sbagliate, i veri tifosi applaudono chi vince, di sicuro non fischiano, mi dispiace che Rossi in quanto essere umano potrebbe, dovrebbe avere il diritto di cadere, di sbagliare, di non vincere, di finire indietro in classifica come può capitare a tutti e invece non è così, ci dobbiamo sorbire, due ore di casco tartaruga con aneddoto strappalacrime, un casco con un marchio grande, 32 pollici, che viene inquadrato senza pudore, idem per il casco di Iannone, perché se ci metti dentro l'intervistatore nel casco allora ti inquadrono, ti fanno il servizio, stesso marchio, niente contro nessuna azienda, ma sono stato personalmente testimone di un paio di casi in cui è stato chiesto a un pilota di coprire i marchi per evitare paranoie, non voglio essere troppo specifico sul marchio o sul pilota, ma se qualcuno venisse in mente di dirmi che non è vero, sappia che io ero lì, ho anche la registrazione, quindi questa cosa è successa, con tanto di giornalista Mediaset inquadrato, io ero lì, vorrei capire perché se non si possono inquadrare i marchi di una certa azienda, si possono inquadrare i marchi di un'altra azienda che compaiono bellamente. Non hanno problemi a inquadrare due caschi della stessa marca nemmeno durante la prova di Cereghini. Strano, ovviamente alla marchetta casco Bible Tramo si aggiunge anche la pubblicità semimarchetta a mezza bocca di un libro. Qual è il problema? Il problema è che se io ho un prodotto e lo voglio pubblicizzare devo pagare la concessionaria pubblicitaria, mi fanno una fattura, loro ci pagano le tasse e sotto ci mettono la scritta messaggio promozionale perché la gente deve sapere. Vogliamo fare che pubblicizziamo tutto all'amicizia? Ok, però allora non copriamo il marchio di qualcuno o di qualcun altro no, altrimenti devo pensare che i simpatici pubblicizzano gratis, i meno simpatici invece devono pagare. Un po' come se io facessi Voltaren, Gracie Magazine, Jiu Jitsu, eh, sospensioni Wilbers, eh, Borotalco, eh così, ma per caso eh, mentre qualcun altro invece deve pagare per fare la pubblicità. Questo perché mi è stato detto a me che avevo un banner che smarchettavo sui caschi e invece io faccio sempre la fattura e il banner è e si vede. Ciao Luca. Durante la gara, torniamo alla gara, la caduta di Rossi fa smettere diciamo la telecronica, ci tocca innanzitutto subire un corso di periti assicurativi, poi viene cercato un dottore per rianimare i due telecronisti e infine si rischia seriamente che mandino in onda una puntata di studio aperto a quella quei gattini che suonano il piano perché la corsa che in realtà è abbastanza noiosa, va detto, non interessa più. Per fortuna la gara finisce e lo scusodromo del duo e il tengo famiglismo di temporali raggiungono nuovi livelli passando a fuori giri con il momento più basso della giornata. L'unico a dire cose sensate ai Biaggi insieme a 3-4 frecciatini a un'uscita dopo aver ingoiato da signore le battute di Beltramo ormai incapace di fare domande anche in italiano. Segno che sarebbe stato giusto all'impiego di Biaggi come commentatore anche MotoGP magari al posto di temporali che ha dimenticato di essere motociclista. Per il resto rimarranno immemorabili il disegno ad opera di Cereghini a cui vengono attribuite inizialmente doti simili a quelle di Philip Stark che disegna una specie di scarico del cesso dove Rossi sembra il nemico dell'igiene con l'incrostazione lì e Bautista, la schiuma che porta via tutto e stappa lo scarico. Alla fine proprio mentre Bautista è già condannata e stanno per lanciare sul mercato il suo pupazzo voodoo che se lo schiacci il pilota vomita e soffre, purtroppo Valentino rovina la festa. È stato un incidente di gara e quindi rimangono tutti male, soprattutto non ha il giusto vigore Ronnie Mengo quando cerca di tirare un ultimo colpo a Bautista ma si becca una rispostaccia. Va peggio a Cereghini quando impacciatissimo si sogna di dire a Marquez che forse cade troppo. dopo che la settimana scorsa era un semidio adesso questo rookie che rischia di vincere il mondiale cade troppo, boh, invece di essere contenti che c'è qualcuno che ci prova. Siccome le cartucce sono sparate a Vamber e non sortiscono all'effetto desiderato allora in studio, in barba alla giornata sul rispetto delle donne, Agostini e gli altri decidono di coinvolgere Crutchlow e replicare la scena dei Blues Brothers, quella in cui al ristorante Jack vuole comprare le donne da un tizio, quanto vuole la tua donna? Le donne? Quanto vuoi tu per tutte le donne? Come? Le tue donne? Io compro le tue donne tutte, bambina, signorine belle, io voglio comprare tutte. Quanto vuoi tu per i tuoi bambini? Mezzo? Mezzo? Buonaggio Grazie.